Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video, siamo qua per pushare un'altra maestria giustamente sto approfittando, c'è Maestri delle Maestrie bustato per 80.000 è sempre il secondo giorno di Brawl Like a Girl, ragazzi più 200% ma quando mi ricapita? Il titolo di Bell è Mi sale il crimine, simpatico e andiamo giustamente ragazzi siamo stati 10 minuti in matchmaking e indovinate un po' c'è doppio angelo questo si chiama free to play per ora il primo round forse forse niente, questi ragazzi cambaccano il doppio angelo vi assicuro che è veramente tosto questo cosa fa? Ci prova? non so se ho il jump non lo vedo molto convinto ok, pensavo volesse jumpare su di me allora io qua potrei tentare anche una cosa del genere giusto così oh e poi uno può sfruttare anche la pozza, la ulti dell'altro mi sa non lo so quindi sarebbe da vedere perché giustamente il gioco non è ottimizzato per avere due angeli in team giusto così non lo so il 2v1 così nooo è saltato ok siamo 2v1 questa l'ho sentita ok ggg l iris in realtà countera un po' tutti sia angelo che piper perciò i gadget sono veramente utili quindi siamo a 23.279 si va abbastanza veloce questi hanno messo un pocio così praticamente cos'è? non avevano dug non avevano gin è il curatore quello low budget non lo so non mi convincono eh vabbè ma guardate questo dove mi ha preso è riuscita a predictarmi allora vediamo un po' pandi e pilotta cosa riescono a combinare ma in realtà insomma c'è un pocio a parte iris ok iris one shot che bella la hit e qua vabbè pocio da solo poverino non si arrende però eh cosa fa? arrenditi pocio per favore ok si arrendi allora qua se riesco a beccarne uno ho preso il pocio go 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 col rimbalzo e vedete ragazzi comunque l'utilità di di fare sti rimbalzi strani il pocio è laggiù oh eccolo ok la viper ci ha provato ma diciamo che è un pelino troppo vicino vabbè come vedete più o meno le comp sono le stesse non troviamo spesso i trower però è un'ottima alternativa anche quella ve l'assicuro ho provato l'angelo c'era c'era ma a quanto pare non era proprio lì ok oddio l'ho preso mi ha preso anche lui qua ragazzi non è così semplice ok si stanno passando un po' di colpi devo riuscire a infilarmi proprio preciso nel tunnel ok la peper one shot c'è la ulti di angelo qua ragazzi il consiglio più grande è aspettare non c'è bisogno di avere fretta ok 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 bella la combo ok l'aggressività ragazzi funziona sempre vabbè siamo 2v1 contro un angelo potremmo farcela non ha la ulti ok gg 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 l'hypercharge qua mi è servita come avete visto sono andato sotto al grom ed è questo il difetto dei trover quando gli arrivi sotto è un po' difficile qua ragazzi il colt forse potrebbe essere free allora io questo lo butto un pochino più verso sinistra perché immagino che Mandy sia di là infatti super predict di solito con Mandy si va sempre lì ok vediamo un po' chi vince ok se usava anche la ulti giocata del secolo perché avrebbe buttato tutto però io riprovo a fare la stessa cosa qua così e c'era di nuovo allora noi siamo vicini anche all'hypercharge ok potremmo comunque farcela non è impossibile ok qua abbiamo fatto una bella kill c'è anche la Mandy con il dot perfetto Mandy l'ha disintegrata ok 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 preso se facciamo star player potrei avere anche il la maestria fatta vediamo un po' mamma mia la kill che abbiamo fatto clamorosa questa ragazzi questa ragazzi i gadget io qua regia uno zoom su quel gadget lo farei mi sono un po' emozionato ok gg forse forse ci siamo fatti anche lo star player no l'ha fatto pandy vediamo un po' quanto mi manca 24.791 dai 9 punti allora questa a prescindere di star player o meno se è vinta è la mia partita finale io intanto vi chiedo un bel ecco un bel commento ragazzi per continuare a farmi pushare le maestrie e il codice player ogni tanto me lo scordo perché sono concentrato devo stare attento perché lo so che che perl ragazzi è pericoloso devo tenere la guardia alta perl brawler che secondo me per alcuni di voi ancora molto sottovalutato e non è facile da usare perché bisogna avere un po' di pazienza ma ragazzi con la star power attiva così con lo scudo vi assicuro che ha un dps un danno no sense ed è veramente tosto da buttare giù ok se per esempio questo qua non avesse indietroggiato e mi fosse saltato addosso sarei sparito però non glielo dite mi raccomando ok dovrebbe esserci ah no c'è la perla il piper è sopra potrei fare una roba del genere lì uh che liscio allora l'obiettivo adesso è no non ci credo eh questa l'ho provata da lunghissima distanza ci ho provato era coloso era molto coloso se prendevo perla era fatta ok questi li abbiamo molto schiacciati dobbiamo stare attenti ok vai a posto a posto ragazzi maestria finita e anche mi sale il crimine l'abbiamo conquistato un'altra per il nostro account tutto concludiamo a 1111 ok me ne mancava 9 ci apriamo lo star drop star drop mamma mia schifoso allora ci andiamo a riscattare l'icona eccola qui e il codice che ho contato il titolo ok ragazzi questo è il mio account modificato con la maestria di di bell io vi chiedo ancora un bel ecco un bel commento e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao